Tommaso Ciampa è pronto a debuttare nei roster principali, questo è il rumor che sta girando proprio adesso in America. E sarebbe anche la cosa più normale dopo il finale di Stand and Deliver, il finale del suo match, quando dopo aver perso contro Tony D'Angelo è stato abbracciato da Triple H, mentre il pubblico dello show dei giovani lo ringraziava con dei cori per tutto quello che ha fatto per quel brand. Quindi stando ai si dice, stando ai si mormora, Ciampa potrebbe già debuttare in maniera decisiva, intanto ecco qua l'abbraccio con Triple H, nel roadie stanotte, non sarà un debutto perché ha già abbazzicato i roster principali, ma questo match dovrebbe, il match o quello che farà, dovrebbe significare proprio l'abbandono di NXT per tentare l'avventura tra quelli di un livello superiore. Se non ci sarà l'esordio nella puntata americana di stanotte, è comunque assai probabile che avverrà a breve, se non a brevissimo, perché i piani dovrebbero essere quelli che vi ho appena riferito. Come vi dicevo, è un rumor, è una voce di corridoio, è però molto forte, è assolutamente credibile, quindi stiamo a vedere se e come si realizza.